Buongiorno a tutti, sono adesso Davoli, sono responsabile per l'operazione di Banu. Io ho preparato una presentazione e vi illustrerò un po' il percorso che la mia azienda sta facendo, un percorso relativamente recente. Per far questo vi faccio una veloce presentazione di quello che è l'azienda perché secondo me aiuta e contribuisce a capire poi quello che stiamo facendo e di come lo stiamo facendo. Allora, Banu nasce nel 1969 dall'idea dell'invento archietto. Signor Bain, a partecipare ancora il Presidente, CEO dell'azienda, che ha l'idea di iniziare a produrre coppie per il trasporto delle polveri nel settore del betonato. è un'attrezzatura molto vecchia che però continua ad essere utilizzata in tantissimi settori. L'applicazione è il trasporto tipicamente sottossido quando inizia l'azienda. Oggi l'azienda è cresciuta, si è espansa, oltre alle coppie comunque al cuore della nostra azienda ci sono tantissimi altri prodotti che qui vedremo. Oggi lo stabilimento principale per l'Italia con 330 metri quadri di aree con 46.000 coperti. In Italia a Ponte Motta, in Tavezzo, Moadele, in zona del terremoto, c'è anche il corpore. La copertura, diciamo per la tipologia di prodotti, la mia si è espansa, è intanto una piccola multinazionale, come abbiamo usciti produttivi in diverse punti dell'Europa, in Asia e in America, sia nel Londra che nel Sud. La copertura commerciale è praticamente in tutto il mondo, tranne che nell'Africa centrale. Abbiamo tantissimi brand. Ognunberg, per esempio, i prodotti, come dicevo, sono nati dalla coffea, ma abbiamo diverse famiglie di prodotti che si sono aggiunti man mano e anche recente acquisizioni, con brand, scusate, con brand anche, penso, conosciuti, come ad esempio, la partecipazione insieme. Questo è un po' per capirci il tipo di prodotto. È un prodotto che in base è semplice, quindi nasciamo dalla coffea, questa è una coffea in acciaio in uscita, ma diciamo che c'è stata l'espansione. Abbiamo vibratore, quindi vibranti, coffea per gli impianti di energia, quindi per la generazione di energia, miscelatori, valvoli di vario tipo, impianti per la decolazione dell'acqua. Quindi, dal di che originale abbiamo aggiunto diversi prodotti che hanno un denominatore comune, che molto spesso è la coffea, ma sicuramente sono prodotti in carpeccaria, quindi prodotti semplici, tra virgolette anche un po' poveri. Sottolineo il filtro, perché poi sarà l'oggetto di quello che vi farò vedere successivamente. Il settore San Martino del betonaggio, ormai sono in tutti i settori, food, asfalti, animal food, chimica, miniere, naturalmente il betonaggio, l'aplastro. L'emuniera, la farmaceutica, la depurazione delle acque, il vetro, i tempi che sono, quindi siamo ormai su diversi settori molto differenziali. Ecco, l'azienda, avendo un prodotto relativamente semplice, ha fatto proprio, quindi ha nel DNA, uno spirito fortemente innovativo. Chiaramente i prodotti semplici sono facilmente occupiabili, quindi l'azienda da sempre ha avuto lo spirito di innovare, rinnovare il proprio prodotto per cercare di essere sempre un passo avanti rispetto a quello che era il potenziale della concorrenza. Cosa significa per noi innovazione? Abbiamo un centro di sé, anche per primi, sempre dall'idea dell'imprenditore, abbiamo iniziato a studiare il comportamento delle polveri, cioè come si muove la polvere, come trasportare la polvere, perché trasportare in un certo modo, quindi la coclea che sembra un prodotto semplice, ma in realtà loiali dietro anche uno studio. Abbiamo oggi circa dieci laboratori nel mondo dai quali riceviamo quasi quotidianamente informazioni relativamente a come si viescono all'imprenditore. Abbiamo 111 invenzioni e 150 brevetti internazionali. Ma per entrare nel vivo invece di quello che volevo condividere con voi è che l'azienda da sempre ha un impartimento all'interno che produce, pensa e produce macchine di processo, macchine di processo per i propri prodotti, quindi specificatamente per i propri prodotti. Per molto tempo l'azienda ha quindi focalizzato il suo vantaggio competitivo facendo delle innovazioni, migliorando i propri processi con delle macchine che potessero dare un gap rispetto alla produzione degli altri, oltre che sui prodotti si lavorava sui processi, individuando delle fasi, critiche dei processi, e mettendoci delle macchine studiate da noi, quindi di nostra proprietà, anche come lo amo, per dare un vantaggio competitivo sia dal punto di vista della sicurezza, dei costi e della qualità. In realtà noi recentemente abbiamo approfondito quelli che sono gli aspetti dei nostri processi, quindi sicuramente abbiamo una serie di punti di eccellenza che sono dovuti all'introduzione di queste macchine più o meno automatiche. Chiaramente, andando a vedere i nostri processi, come capita nei tutti i processi tradizionali in quali nessuno fa una particolare attenzione, anche noi ci siamo accorti che quelli che ci hanno preso in un'unda erano presenti sui nostri processi, quindi quello che era il vantaggio competitivo che pensavamo, l'automazione e le macchine innovative che avevamo portato, cioè che ci davano, in realtà venivano in parte qualificati da quello che era il contorno, il contorno che era un po' meno studiato da queste macchine. Quindi abbiamo pensato e siamo fortemente convinti che è necessaria, ma non è sufficiente l'innovazione dei processi. In quale si parla molto di industria di 4.0, noi stiamo approcciando questo, ma siamo fortemente convinti che se non lavoriamo anche su quello che ci sta attorno, vanifichiamo una buona parte degli obiettivi, dei risultati potenziali in queste innovazioni più rilevanti. Quindi nel 2013, quindi abbastanza recentemente, a rientro del capannone, nel terremoto, noi abbiamo subito il terremoto con diversi danni. Quando abbiamo iniziato a rientrare negli appagioni che sono stati rimessi a norma, secondo le nuove norme sismiche, abbiamo deciso di fare analisi. Il contesto nel quale ci trovavamo era un contesto di crisi del mercato, la competitività dei nostri concorrenti stava aumentando e le nostre vuote in mercato iniziavano ad essere attaccate. e l'analisi fatta verso i nostri clienti ci evidenziava che abbiamo bisogno di lavorare sui lead time e sui costi del nostro prodotto. Quindi abbiamo preso un prodotto che è il silico in un'area, c'era un po' di sintetismo, quindi abbiamo fatto un progetto tirota per vedere come poteva essere applicata una pratica che si sta diffondendo nella nostra azienda, una azienda che in sostanzialmente il caffettiere abbiamo preso una linea dove c'è una macchina di processo inventata in realtà che secondo noi dava un vantaggio al prodotto ma a valle di questa parte di produzione secondo noi incendente poi c'è una linea di montaggio che secondo noi poteva essere più grave. quindi abbiamo preso un team il team era composto oltre che dagli operatori anche direttamente da me e dal responsabile del team industriale che è sempre che lavoriamo per trasferire anche con noi ci siamo dati degli obiettivi che ritenavamo anche molti studenti su produttività e lead time tutto ciò che veniva dal punto di vista del miglioramento degli spazi che era ben accetto ma non ci eravano dati obiettivi precisi come era la situazione in queste aree allora la produzione veniva fatta su una linea rotonda o lì nella quale in questa parte c'erano operatori la parte diciamo restante era un ritorno per alcune attrezzature che servivano ma soprattutto era l'organizzazione attorno alla linea che evidenzava dei problemi diciamo che la cultura era quella di ottimizzare il lavoro degli operatori logistici immediatamente avevamo 4-5 giorni di materiale attorno alla linea chiaramente con i contenitori che classicamente girano le aziende questi 4-5 giorni di materiale non potevano stare sul porto della linea in forma degli operatori ma era nell'intorno nell'intorno diciamo quindi una situazione di tanto materiale non del tutto ordinata e soprattutto le operazioni quando finivano il contenitore al fianco della linea si dovevano spaccare andare nelle vicinanze prendere i materiali che non era sempre nella stessa zona ma non era detto riportarselo vicino alla linea per consumare questo causava diciamo diverse insettricenti abbiamo fatto la pressa di ammattura del processo e un po' di spaghetizzante e abbiamo visto che abbiamo elevato quello che era evidente anche dalle foto e da un'analisi più superficiale che i problemi principali erano i spostamenti delle persone che attese e gli stop di vita poi abbiamo fatto un approfondimento anche su quello che era la domanda che girava su questa linea ci siamo accorti che sulla stessa linea giravano due famiglie pur essendo tutti i filtri circolari due famiglie di filtri il quale un nome particolare che aveva numeri anche molto relevanti è un filtro specializzato che ha sempre la stessa testita base mentre gli altri sono tutti i filtri un'altra famiglia che si chiama BAMFLOR sono tutti i filtri configurabili quindi il cliente si configura un po' al filtro come da necessità e poi viene mandato quindi una logica un po' diversa tra il filtro e il filtro uno sempre uguale gli altri variabili con un'evidenza di quello sembra uguale la demanda di numeri più elevati quindi il team vista questa situazione ha deciso di creare due linee una dedicata al filtro siloco perché i numeri lo giustificavano e quindi ottimizzare al massimo la linea di questo filtro si è taggolato il tap time quindi la richiesta alla domanda poi la cosa interessante è stato il coinvolgimento delle persone degli operatori nell'epriare con il processo abbiamo montato un filtro insieme a loro abbiamo visto qual'era la sicurezza corretta per il montato del filtro ci hanno rivelato anche incoerenze sul processo che avevamo in alto e poi sempre con l'ausilio dell'operatore abbiamo il filtro e il montaggio nuda freni quindi togliendo quei ferrami freni attorno alla lì e abbiamo visto che con due impostazioni avremo una cadenza in accordo con quello che era il filtro quindi siamo andati alla designazione della linea una linea molto corta in realtà due impostazioni dove però introducevamo diverse facciate nuove nessun preassemblaggio o meglio nessun preassemblaggio fatto in postazioni separate quindi due postazioni principali al dietro all'operatore alcune zone dove uno poteva fare il preassemblaggio ma subito dopo l'inserimento nel posto principale poi assieme al siloto sempre uguale abbiamo definito un bordolineo sempre uguale un operatore quindi trova componenti sempre allo stesso posto e comodi in sistemati in maniera economica l'altro concetto che abbiamo introdotto era quello di evitare l'utilizzo di un'irono guato che qualora finisse la cassetta delle viti l'operatore trovava logistico come magari anche alzando semplicemente alzando il braccio che gli diceva ho finito le viti quindi se capitava che nello stesso stabilimento ci fosse la concomitenza di due persone che finivano il materiale uno dei due aspettati quindi abbiamo tolto la logica del carrile in vantore che ancora com'è un taxi abbiamo introdotto la logica del tendinologico e abbiamo creato un primo step dove c'era il supermercato di famiglia per il sito di quel primo step per cui abbiamo fatto successivamente l'anggancio con il PR che erano i fornitori di questa area chiaramente per organizzare questa linea abbiamo dovuto fare anche un lavoro di ristandardizzazione dei contenitori perché avevamo fatto un carico se avessimo utilizzato il contenitori in-essere la linea sarebbe diventata lunga 25 metri e invece è una linea che è molto molto contenuta perché facciamo parte il corpo e le medie sottranti i componenti sono piccoli questa è la linea che abbiamo realizzato con tutte le imperfezioni dei silagio del primo progetto però ha portato delle grosse novità il filtro viene montato su dei carrelli e partiamo dalla la prima cosa che mettiamo sul carrello è il pallet in passato era l'ultima cosa quindi facciamo una movimentazione in mente che è poco ma però contribuisce ha cambiato ancora la mentalità delle persone abbiamo lavorato molto con gli operatori per far capire qual era il senso dell'approccio che stavamo apportando quali sono le altre cose che diciamo abbiamo comportato macchine specifiche per creare gli assemblaggi nell'ottica di toccare i besti di nuove persone come vi dicevo i porti linea economici con casettine più piccole carrelli dedicati per i componenti critici o incontranti per darci un modo di utilizzare i tre mazichetti il porti i risultati che abbiamo positivato sono decisamente sono risultati molto migliori di quello che c'eravamo prefissati un aumento della produttività del 35% un riduzione del 60% oggi lavoriamo a 1-1 stop mentre prima portiamo ancora una settimana di lavoro gli spazi sono ridotti del 20% da quanto riguarda la qualità e la sicurezza in realtà era già una linea che lavorava bene da questi punti di vista e ci si era già lavorato molto noi abbiamo diciamo il valore di questo progetto pilota è quello che ci ha fatto capire appunto che l'innovazione che comunque è fortemente radicata nel nostro ombro nella nostra mentalità non è sufficiente abbiamo visto che se non la facciamo seguire da un'organizzazione delle linee da una mentalità degli stabilimenti volta al miglioramento continuo e alla fine degli sprechi parte del miglioramento che abbiamo con queste macchine molto innovative e lo perdiamo quindi abbiamo capito che è necessario lavorarci quindi abbiamo fatto una serie di attività abbiamo visto tutto il layout abbiamo iniziato a collegare alcune delle trend facendo dei supermarket e combinando la promozione della linea abbiamo lavorato come vi dicevo sul nostro fornitore che è a mio fianco rifacendo completamente il layout e facendo anche i primi esperimenti di rifiare sui ciclos fino ad arrivare al 2016 dove abbiamo iniziato a lavorare su quello che è il BAMICS e il program e iniziare a pensare che il problema che stiamo vivendo in questi mesi che avremo da affrontare nei prossimi anni è quello di portare queste esperienze all'estero abbiamo fatto qualche esperimento in Europa e ci stiamo accingendo dopo aver fatto un audit rispetto al nostro BAMICS e il training all'estero che ci stiamo accingendo a fare i primi progetti di oggi in India in Cina e in America che ci sono gli stavimenti principali ecco la sfida che abbiamo in questo momento è questa è come portarlo all'estero dove la mentalità delle persone è diversa e con una struttura possiamo essere una multinazionale siamo una cultura multinazionale diciamo 350 milioni di euro di fattura pur avendo una struttura che è simile a molte grandi multinazionali quindi la struttura centrale che può dare rapporto alle strutture periferiche è relativamente piccola quindi la nostra sfida è che siamo convinti e anche la presenza oggi è convinta che sia necessario andare per questa strada stiamo cercando di capire qual è il modo più efficace per portare in giro questo tipo di cultura io ho camminato grazie a tutti Grazie.